Il canto Il canto Il canto Il canto canta di gioia il Signore con te, Dio ti guida come un padre, tu ritrovi la vita con lui, rende le grazie, si fedele, in che il suo regno ti aprirà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, tanto di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Buonasera a tutti, celebriamo la quinta domenica del tempo ordinario, offriamo la Santa Messa delle intenzioni di questa Chiesa, in maniera speciale per il papà di Padre Nicolás, Marco Colelella e per Ernesto Villico. Per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e a voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Custodisci sempre con paterna bontà la Tua famiglia, oh Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da Te, aiutaci sempre con la Tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna contene l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Giobbe parlò e disse, «L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira all'ombra, e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi d'illusione, e notti di affanno mi sono state assegnate. Semmicorico dico, quando mi alzerò? La notte si fa lunga, e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. ricordati che un soffio è la mia vita, e il mio occhio non rivedà più il bene». Parola di Dio. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risanaci, Signore, Dio della vita. «E' bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risanaci, Signore, Dio della vita. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. risanaci, Signore, Dio della vita. Grande è il Signore nostro, grande nella Sua potenza. La Sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. risanaci, Signore, Dio della vita». Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. «Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. «Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne nel maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anche io». Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. «In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre subito la lasciò ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò ancora quando era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero, tutti ti cercano. E gli disse loro, andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Parola del Signore. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Vediamo, carissimi, come continua questo cammino missionario di evangelizzazione, di guaritore proprio di Gesù, di medico delle anime e dei corpi, in tutti i villaggi, come dirà poi agli Apostoli, in tutto il mondo. E vediamo anzitutto come Gesù si alzava presto al mattino, quando ancora era buio, per andare a pregare. Per stare in comunione con il Padre e quindi poi trasmettere questo potere divino, soprattutto a chi aveva più bisogno, guarendo gli ammalati, scacciando i demoni, guarendo ogni sorta di malattia fisica e spirituale. Quindi vediamo soprattutto come Gesù ha il potere sopra il male. Gesù ha il potere di scacciare il male da chi purtroppo è rimasto schiavo, chi è rimasto incastrato nelle trappole del demonio. E poi vedremo come Gesù anche trasmetterà agli Apostoli, a partire dal giorno di Pentecoste, questo mandato apostolico di scacciare i demoni, quando dirà andate in tutto il mondo e nel mio nome, nel nome di Gesù, avrete potere sul male. Tutti lo cercavano, perché da Gesù usciva una forza straordinaria, una forza che santificava, che guariva, che liberava dal male. Abbiamo celebrato in questi giorni la festa della presentazione, che sarebbe in pratica l'offerta di Gesù al Tempio, e che fa un po' da spartiacque tra il Natale e la Pasqua, che appunto la presentazione cade 40 giorni dopo Natale, e fra qualche giorno, fra dieci giorni più o meno, celebreremo, inizieremo con la Quaresima, quindi altri 40 giorni, e sarà Pasqua. La presentazione è proprio al centro, tra il Natale e la Pasqua. E abbiamo visto come Giuseppe e Maria portano il bambino al Tempio. Gesù aveva appunto 40 giorni e viene offerto a Dio, al Tempio. E abbiamo visto la preghiera di Simeone, il vecchio Simeone, il profeta, al quale era stato rivelato che non avrebbe visto la morte senza prima avere avuto tra le braccia il Messia, il Cristo. Ricordiamo quella bella preghiera di Simeone, che appunto dopo aver visto Gesù poteva appunto andare in pace. Ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i suoi occhi avevano visto la salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del popolo di Israele. Luce vera del mondo, delle genti, dei pagani e gloria del popolo Israele. Siamo passati dai riti pagani degli antichi romani alla vera luce che appunto è Cristo. Gesù venne per svelare i pensieri di molti cuori. Con quella profezia che Simeone dice a Maria, anche a te una spada ti trafiggerà l'anima e con quella profezia iniziamo il cammino della Pasqua, il cammino della Quaresima, quella frase terribile che Simeone disse a Maria una spada ti trafiggerà l'anima. E poi si è definita come l'inizio appunto della Pasqua. Ci prepariamo a questo cammino penitenziale per celebrare insieme la Santa Pasqua. Ogni maschio primo genito sarà sacro al Signore. Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. Questa festa è conosciuta anche come la Candelora per questo si benedicono le candele perché appunto arriva la luce nuova, la luce vera che illumina che ci libera appunto dalle tenebre del peccato. Prima lettura Giobbe ci dice che la vita è un soffio il Signore verrà come un ladro nessuno sa quando il Signore ci richiamerà l'uomo dice compie un duro servizio sulla terra e riprende la figura del mercenario il mercenario sappiamo che è quel soldato che va in guerra per i soldi per il salario ma sappiamo che il buon pastore a differenza del mercenario è colui il quale dà la vita per le pecore senza bisogno di soldi e abbiamo visto qui la testimonianza di San Paolo che dice mi sono fatto tutto a tutti per guadagnare il maggior numero mi sono fatto tutto a tutti povero con i poveri ricco con i ricchi debole con i deboli guai a me se non annuncio il Vangelo annunziare il Vangelo non è un vanto per San Paolo ma è una necessità che gli si impone non lo fa per il salario per i soldi come il mercenario ma lo fa perché Gesù gli ha salvato la vita perché è la sua missione perché è la sua vita per questo l'Apostolo compie la volontà del Padre e il salmo responsoriale è veramente attuale oggi abbiamo pregato insieme dicendo risanaci Signore Dio della vita preghiamo insieme questo salmo chiedendo al Padre di risanarci veramente perché solo Lui può Signore sostiene i poveri ma abbassa fino a terra i malvaggi abbiamo celebrato dei grandi santi in questi giorni Santa Agata la protettrice e la patrona di Catania Vergine e Martire abbiamo celebrato la festa di San Biagio anche Lui Martire Vescovo e Medico e oggi questa mattina i Santi Martiri Giapponesi San Paolo Michi e Compagni pensate un po' su quella Collina Santa come viene definita vennero crocifissi 26 martiri San Paolo fu il primo religioso martire giapponese insieme ad altri Francescani Gesuiti c'erano anche dei ragazzi di 13-11 anni 26 martiri in tutto crocifissi e a Nagasaki stesso dopo 350 anni fu buttata la seconda bomba atomica preghiamo per l'intercessione di questi martiri ricordiamo anche la testimonianza di Santa Agata il proconsole romano che si era invaguito della bellezza la voleva sposare a Santa Agata Santa Agata si era già consacrata al Signore quando aveva 15 anni e già aveva il velo rosso della verginità però il proconsole romano si era innamorato la voleva a tutti i costi eh però Santa Agata fu forte fu forte fu capace di resistere di resistere e purtroppo la tradizione ci dice che subì un martirio terribile addirittura la tradizione dice che le strapparono i seni con delle tenaglie terribile però Santa Agata forte dell'amore di Cristo consacrata all'amore virginale di Gesù oggi la vediamo glorificata in cielo e anche San Biagio protettore della gola conosciamo tutti la storia di San Biagio c'era questo bambino la mamma portò il bambino con una spina nella gola San Biagio che era anche un medico appunto gli diede un pezzo di pane quella spina scese perciò il protettore della gola anche del naso si dice allora preghiamo tramite l'intercessione di questi grandi santi oggi una 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 pia donna della nostra chiesa San Atanasio in Brooklyn mi ha dato una preghiera già conoscevo ma è bello ricordarla no? quella preghiera riferita al Padre nostro ci dice non dire padre se non ti comporti da figlio non dire nostro se vivi ancora nel tuo egoismo non dire padre che sei nei cieli se vivi ancora se pensi alle cose del mondo non dire venga il tuo regno se lo confondi con il successo materiale non dire sia fatta la tua volontà se non accetti anche la croce il dolore non dire dacci oggi il nostro pane quotidiano se non pensi a chi ha fame non dire rimetti a noi i nostri debiti se non perdoni prima a coloro che magari hanno peccato contro di te non dire non ci indurre in tentazione se continui a peccare non dire liberaci dal male se ti opponi al male e non dire amen se non credi alle parole del Padre nostro che altrimenti sarebbe ipocrisia allora ci vogliamo affidare all'intercessione della mamma celeste dato che ci avviciniamo adesso alla quaresima tra dieci giorni inizieremo col mercoledì delle ceneri su cammino penitenziale di conversione non è mai troppo tardi per tornare al Padre e consacrarci offrire la nostra vita come appunto Gesù fece al Tempio sia lodato Gesù e Maria e Maria a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Esaudisci il tuo popolo, Signore. 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 Esaudisci. Per le nostre intenzioni personali e speciali, in particolar modo per le intenzioni di questa cattedrale, per Marco Colelella, per Ernesto Villico. Esaudisci il tuo popolo, Signore. Concedi a noi il dono della tua sapienza, oh Padre, e fa che la tua Chiesa diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e nella comunione fraterna. Per Cristo, nostro Signore. Amén. 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 Noi, Signor, tutto noi ti offriamo per unirci a te nella tua Messa, la nostra Messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua Messa, la nostra Messa, nella tua vita, la nostra vita, questo pane e vino, oggi noi ti offriamo, corpo e sangue tuo, da te noi riceviamo, nella tua Messa, la nostra Messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua Messa, la nostra Messa, nella tua vita, la nostra vita. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il pane e il vino che hai creato, Signore, a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo, nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio Onnipotente ed Eterno. Per Cristo, nostro Signore, mirabile l'opera da Lui compiuta, nel mistero pasquale, Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e dalla morte, alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la sua potenza, oh Padre, che dalle tenebre ci ha chiamati allo splendore della sua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti la tua lode. O Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Padre, veramente Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente dalla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti questo e il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti questo e il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Anunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, in particolar modo di Marco e di Ernesto, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da aver parte della vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, San Paolo, Michi e compagni, tutti i Santi che in ogni tempo furono graviti. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alleluia, 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 all ha insegnato. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non cintura in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni tuo momento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il Regno, tu hai la potenza, la gloria nei secoli. Signore, Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli, dei secoli, la pace del Signore sia sempre con tutti voi, e con il tuo Spirito. E con i figli di Dio, scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, oh Signore. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola, e Dio sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo, che ti custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Amén. Grazie. 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 Padre della vita, noi crediamo in te Figlio Salvatore, noi speriamo in te Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi Tu da mille strade ci raduni in unità E per mille strade poi dove tu vorrai Noi saremo il seme di Dio Noi saremo il seme di Dio Noi saremo il seme di Dio Dio li guariva, preghiamo Figlio e Spirito Santo, glorifichiamo il Signore con la nostra vita Andiamo in pace Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte Buona domenica a tutti Grazie Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai Santa Maria, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te Vieni oh madre in mezzo a noi, vieni oh Maria qua giù Cammineremo insieme a te verso la libertà Quando qualcuno ti dice, nulla mai cambierà Lotta per un mondo nuovo, 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 lotta per la verità Vieni oh madre in mezzo a noi, vieni Maria qua giù Cammineremo insieme a te verso la libertà Vieni oh madre in mezzo a noi, vieni oh madre in mezzo a noi, vieni Maria qua giù Cammineremo insieme a te verso la libertà